Con grande sofferenza, perché una delle ragioni per cui noi abbiamo scelto la via, il percorso della piena autonomia, da libera e forte al centro, fa parte anche nelle nostre considerazioni della realtà che lei ha chiamato. Cioè, se noi vediamo il prossimo futuro, si realizza questo partito unico di Forza Italia, della lega, per parlare fuori del rete, dell'onorevole Giorgetti, che è certamente più moderato, rispetto all'onorevole Salvini, per noi è più facile fare sistema, essere alleati. Altrimenti, per scegliere l'alleanza, dobbiamo partecipare alle nostre convinzioni, agli organi istituzionali del partito, alla direzione provinciale, regionale e nazionale, scegliere insieme se farla o meno l'alleanza. Quale il problema del Paese è la legge elettorale, non può costringere, non può costringere. Una persona come è che la storia politica, che io posto sulle mie spalle, con grande orgoglio di dignità. Non posso essere costretto, però, a scegliere un alleato che con la mia storia non lo che verrà. Assolutamente. In questo caso, se io fossi stato costretto, non mi sarei presentato. avrei abbricato, perché io, come le dicevo prima, molto prima, io non ho mai avuto, per fortuna, grazie a Dio, né parole né pareti.